l'elastico anche, ricordate che quando useremo l'elastico è importante di usare l'elastico, ok, proprio con un fiocco, ok, eccoci qua, comincia a spingere, alzate il laterale, spingo, spingo, usa le gambe così riscaldiamo, cambio, vai, vai, proprio un bel allenamento, ok, cambio, 8, e in cambio, 8, ok, dai, dai, spingo, io adoro il trapolino perché veramente mi dà molto sollievo su questo problema proprio dell'abdome, cambio, bello riscaldamento, 25 secondi, vai, e cambio, ok, spalle di mani giù, mani giù, cambio, ok, and stop, eccellente, ok, adesso andiamo a lavorare i bicipiti, provo di farmi inquadrare al meglio, non è facilissimo ragazzi, vi metto in, eccoci qua, ecco, guardate così, bicipiti, ci siamo? ok, dai, dai, usi le gambe, ok, stesso braccio, lungo, chiudo, chiudo, allungo, ancora, ancora, allungo, 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 dai, 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 quando sentiamo il nostro bello fischietto, cambieremo braccio, vai, 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 oh sì, usa le gambe, cambia lato, ok, stendo e chiudo, stendo e chiudo, spingi con le gambe, e questo è un allenamento per tutti i nostri amici che non vogliono fare proprio la coreografia, ok, recuperi, recuperi, mi metto, ciao, come state ragazzi, vi state divertendo con la Jill, ok, adesso andiamo a fare karate, portate la gambe destra in avanti, braccio su, ok, giù, su, giù, su, giù, ok, piccola torsione, addominali tesi, ok, giù, devo stare dentro del specchio, se io rompo il specchio, mio marito mi uccide, ancora, giù e su, giù, addominali tesi, scendo, up, up, scendo, up, up, scendo, ok, veloce, scendo, ok, addominali tesi, vai, piccola torsione, ok, come on, giù, 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 spingo con le gambe, ok, per tutti quanti che mi state seguendo, io in questo momento vi sto anche girando, ok, ancora, stop, ok, sto girando anche YouTube, dopo la monto bene, sarà sul mio canale YouTube se volete, andiamo a fare karate dall'altra parte, braccio di fronte a noi ragazzi, scendo giù, torno su, così, diventerò la verso personal trainer, ok, quando facciamo il karate è l'accento verso basso, lento su, accento verso basso, lento su, ok, ancora piano piano, 25 secondi piano, 25 secondi, bello, tosti, ok, ancora, giù, vai, giù, dammi ancora due, mettoci qua, andiamo, ok, piccoli, giù, piccola torsione, spingo con le gambe, devo stare attenta, ti ho detto che c'è questo strappo, sto piano, sto attento, dando piano, vai, 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 spingi con le gambe, bam, ok, dai, tre, due, stop, ok, legate le gambe, velocemente faremo, ripeto, un fiocco, ok, il fiocco è importante perché il fiocco ci permette, proprio, di avere le gambe legate, ok, stop touch, ok, vai con il ritmo della musica ragazzi, ok, allora, come va? Ricordate di iscrivervi al mio canale YouTube che quest'anno 2018 che è il diecimo anniversario di Super Jump, mi troverete molto più allenamenti, original, intensity, ok, marcia, marcia, e anche functional, stiamo lavorando davanti su functional perché questo aumenta l'accelerazione muscolare, l'accelerazione cellulare, dandovi più risultati e pensa, aiutandoli se già avete un problema come me in questo momento che c'è una una stiratura sull'addome, ma comunque questo tempo io non riesco a lavorare che è bellissimo, ok, alle differenze di fare un lavoro a terra che sarebbe troppo alta, impatto, ok, andiamo, su, 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 tiro su, ok, l'elastico sta sempre in tensione, ok, non permettere all'elastico di rilassare, vai, 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 continua a molleggiare completamente, continuamente, ok, questo molleggiamento ci permette di drenare le gambe, e aiutarci anche con gli anestezioni della cellulite, ok, cambiamo, altri 25 secondi, mi raccomando, scusate, compro un vocale, mi raccomando però, l'elastico è sempre in tensione, vai, 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 spingate le gambe, vai, continuate, braccia, ok, ecco, 10 secondi, io non mi ricordo chi era, certi di voi mi hanno detto, Gi, vogliamo lavorare più braccia, la cosa bella è che saltando io posso comunque allenare le braccia, ma sto comunque facendo un lavoro che è comunque aerobico, ancora, due, due, scendo giù, le braccia rimangono sempre bello piegate, quando scendo giù, mai con i gomiti dritti, ok, ancora, due, 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 singolo, vado, su, e controllo la decelerazione di Thunderbell, ok, sul trampolino, quando decelerò, questo peso prende 4-5 volte il suo peso, così, siccome è tanto bello, pesa 3 kg, ma qua sul trampolino pesa fino a 15, ok, sui certi picchi, ancora, ah, three, two, and one, perfetto, bravi ragazzi, poi la cosa bella è che quando lavoriamo a tempo, il tempo passa molto in fretta, veloce, fatevi il vostro fiocco, diamo sci di fondo, e teniamo i glutei tesi, cambio, vado, vado, iscrivetevi al mio canale YouTube, così potete essere seguito da me, almeno una volta a settimana, mi uploado proprio un allenamento come io, che mi alleno a casa mia, ok, non posso andare a correre oggi, perché ho questo strappetto, ma grazie al trampolino, io comunque riesco a fare il mio allenamento, che è una cosa molto bella, 4-4 vai, 4, cambio, 4, cambio, 4, cambio, dai, dai, continui, continuate, dai, 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 diciamo circuito quasi fatto di 10 esercizi, io andrò avanti con questi 10 esercizi, ok, e voi avrete la possibilità di trovare questo allenamento per tutto il tempo, tutto, l'allenamento è completo su YouTube la prossima settimana, ok, andiamo in jumping jack, ok, vai, vai, apro, doppio, chiudo, apro, doppio, chiudo, apro, chiudo, e chiudo, apro, chiudo, filate le spalle, non alzate troppo le spalle, apro, e chiudo, ah, sì, la cosa bella è che il trampolino aumenta tantissimo il lavoro cardiovascolare, fino a 151% in più, dello stesso lavoro a terra, e questo ci permette, anche che se tu non te la percepisci, perché aiuto il cuore e i polmoni a lavorare, ma veramente bruci più calorie dello stesso, identico lavoro a terra, aiuta il cervello a produrre indorfine, e di conseguenza, sai lì, sei drogato delle indorfine, non vede l'ora di ricominciare, ok, e alla fine c'è il meglio di entrambi i mondi, perché in questo momento soffice tonificazione e lavoro aerobico insieme, bomba, ci piace, ok, e finiamo l'ultimo esercizio, destra e sinistra, ok, spingo, e destra e sinistra, torsioni di spalle e abdominali rimangono tesi, proprio a lavorare il core, però sto pompando con le gambe per drenare, ok, continui, quest'anno anche Super Jump a Rimini, lanceremo tutto il percorso proprio functional, stiamo facendo del lavoro proprio dedicato ai personal trainer, dedicati a chi fa mini classe, chi ama il funcione che non ama la coreografia, stiamo lavorando proprio su uno nuovo protocollo, ex nuovo per voi, così potete lavorare con tutti i benefici di Super Jump, tutti i benefici di Rebounding, ma senza bisogno di fare percorsi musicali, così per tutti i nostri amici che non vogliono fare il lavoro musicale, voi venivete in là, voi abbiamo fatto i nostri dieci esercizi insieme, io continuerò, cominciamo dal secondo circuito, questa volta andremo proprio di lavorare 25 secondi per braccio, ok, tiro, 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 tengo, tengo, spalle rimane bassa, ok, se diventa troppo difficile potete anche abbassare poco a poco il braccio, state pompando con le gambe, tengo sulla mano, ok, continui, continui, finché sentiamo il sonoro, l'effetto sonore che ci dici che dobbiamo, ok, cambia, vai, 25 secondi, spingo, vai, pompa, puoi pompare di più o meno con le gambe, dipende dal tuo livello, spingo, ok, io oggi, ve l'ho già detto, c'ho un piccolo strappetto sull'abdomen, devi stare attenta, ma non voglio rinunciare ai miei addominali, non voglio rinunciare più che altro al mio allenamento, stop, e per fare questo che cosa faccio? Salto, perché ammortizza l'arrivo a terra, mi permette di fare il mio allenamento comunque e di conseguenza è meglio di entrambi i mondi, ok? Adesso andiamo a lavorare i bicipiti, sempre 25 secondi per arto, per braccio, ok, tengo proprio i bicipiti, salgo due, scendo due, salgo due e quando scendi vedrai che diventa veramente più pesante il peso, perché c'è la decelerazione del trampolino stesso che ci aumenta l'intensità del nostro allenamento, via, ancora, dai, dai, spingo, spingo, cambi il braccio, su, giù, su, giù, su, vai, vai, su, giù, su, giù, giù, su, dai, dai, rompi il polso, dai, ancora, usala, e cosa bella di lavorare a tempo, che non siete obbligati di lavorare, diciamo con le figure coreografiche, che a certe persone dà fastidio, eh, perché se dà fastidio non sei uno che ama la coreografia, mi capisco, così, bello, possiamo fare il nostro allenamento, avere tutti i benefici di super jump, ma senza l'obbligo di intrecciare le gambe, giù, su, su, giù, questo si chiama karate, e come se stessi colpendo verso basso, ok, spingo giù e torno su, spingo giù, torno su, spingo giù, spingo, ok, andremo più veloce quando sentiamo la musica che cambia, ok, saranno piccoli movimenti, ok, piccolo, spalle, torsione, addominali tesi, io devo andare un po' più calma oggi, ahimè, però, proprio colpite verso basso, ok, giù, 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 spingi con le gambe, spingi, spingi, ok, vai, troverai sia Thunderbell che trampolino su coldsport.com, e stop, ottimo, ok, Thunderbell è eccellente perché c'ha tantissime prese, che ti permette veramente di fare diversi, diciamo, come avere un manubrio, come avere una kettlebell, come avere una palle medicinale, ok, su, su, giù, dominali tesi, giù, ancora, giù, vai, 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 giù, ancora, giù, spingo, spingo, giù, up, up, scendo giù, up, up, scendo giù, ora, tira giù, ok, e piccoli movimenti ma più veloce, spingo giù, tira, tira, ah, yeah, eccellente ragazzi, tira, tira, continuate, vai, 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 e stop, eccellente, 10 secondi, ok, prendiamo la nostra elastica, cominciamo proprio di legarla, siete pronti, ok, step touch, step touch, e non permette all'elastico di comandarsi, ok, sempre in tensione, sempre in tensione, vai, 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 dai, siamo sul secondo circuito, spingi, spingi, così facciamo un po' di tutto, stiamo facendo i glutei, le braccia, le spalle, i tricipidi, ok, marcia, 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 come on, come on, come on, come on, marcia, 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 yeah, yeah, vai, 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 marcia, 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 lavora con quei glutei, dai ragazzi, stop, eccellente, bravi, 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 ok, prendiamo il nostro elastico, lo facciamo passare dietro la testa, adesso facciamo 50 secondi di estensione per i nostri tricipidi ragazzi, allungo, lungo, lungo, ok, lungo, lungo, vai, vai, ok, 50 secondi, tieni sempre l'elastico in tensione, spingo, spingo, vedi, anche se oggi devo modificare, comunque mi sto facendo il mio allenamento, continui, vai, 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 oh yeah, tira, 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 ancora, da, senti quei tricipidi che vanno proprio in tensione, state lavorando, bravi, bravi, spingi, 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 oh, oh, and relax, ripendete Thunderbell, sai che ti dico, io dirò al mio marito di fare un kit Thunderbell elastico e frampolino a un prezzo speciale per tutti voi, così vi potete allenare alle grandi, ok, bicarbone senza, giù, pusta, back, back, vai, 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 ancora, spingo, 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 ricordate che le trono indietro i gommi si sono sempre leggermente piegate, ok, così, non vogliamo mai gravare sull'articolazione con il trampolino, specialmente quando usiamo i gommi si sono sempre leggermente piegati, ok, e così controlliamo meglio la decelerazione, ok, proviamo singoli, singoli, spingo e torno giù, vai, diventa molto più impegnativo quando facciamo un passaggio singolo, fai un movimento ancora più piccolo se necessario, avanti e indietro, dai ci siamo quasi, and stop, ok, rilegate le vostre gambe, rilegate le vostre gambe velocemente, andiamo a fare la nostra sci di fondo, ok, allora, cambio, cambio, la punta dei piedi e le ginocchia sono in stessa direzione, sempre, ok, vai, 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 cambio, cambio, portalo su quattro, 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 cambio, yeah, spingo, spingo, proviamo singoli, singoli, ok, tieni i piedi larghi, i ginocchi seguono però i punti dei piedi, non permettono ai ginocchi di pronare, ok, dai, 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 senza torsione, tira, tira, dai, ci siamo a metà strada, ci siamo quasi alla fine di questo scatto, continuate, spingi, spingi, yeah, ok, ok, vai, relax, ottimo, ok, riprendete il Thunderbird, lasciate le gambe piegate, speriamo che, eccoci qua, il mio microfono rimane, ok, presa all'interno, ok, su, e scende giù, guarda i gomiti, sono sempre in azione, su, quattro, tre, due, giù, quattro, larga le gambe, quattro, quattro, vai, vai, quattro, e giù, ancora, quattro, e giù, ancora, quattro, e giù, ancora, quattro, giù, fate due, due, e due, 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 vai, 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 ok, continui, continui, senti come funziona anche sulle gambe, tre, due, uno, relax, liberate le gambe, ultimo esercizio di questo circuito, e così abbiamo fatto già 20 minuti di lavoro, ragazzi, ok, destra e sinistra, siete pronti, destra e sinistra, ok, spingo con le gambe, vai, 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 destra e sinistra, vai, 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 spingo, spingo, e continuo, vai, 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 spingo, spingo, continuo di lavorare, ottimo, ragazzi, continuate, continuate, di spingere, e fai lavorare tutto il tuo corpo con Thunderbird e il trampolino, oggi devo fare un pizzico di meno di torsioni, perché, come ti ho detto, ho fatto un piccolo strappo sull'addome, ma è la cosa bella del trampolino che comunque mi permette di allenarmi con voi, perché vi ho promesso che questo 2018 sarà veramente speciale, ci alleneremo insieme, fino in fondo, diventa la tua personal trainer, allora, alzate i laterali, siete pronti, questa volta che cominciamo, con il suo braccio destro, 25 secondi, tiro, tiro, vai, vai, spingite le gambe, tieni, 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 ok, rilassati le spalle però, ok, non alzare le spalle, spara lontano dall'orecchio, ok, spingo, spingo, vai, 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 ok, vedi come 3 kg cominciano a farsi sentire, che uno dice, ah mamma mia, 3 kg quanto ci vuole, fai per 30 minuti lavorare con 30 kg che sono sempre in movimento, ti garantisco che il lavoro lo senti, e come lo senti, continui, continui, vai, 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 and stop, eccellente, siamo sul terzo circuito ragazzi, ok, terzo circuito, 10 più 10 più 10, 30 minuti di lavoro, fatto senza coreografia oggi, perché me l'avete chiesto sia per le braccia, e l'avete chiesto senza coreografia, così stiamo facendo Thunderbath, trappolino elastico, ok, 2, 2, 2, 2, dai, allungo, torno, lungo, e torno, vai, lungo, allungo, torno, lo senti? Oh, i cibi di, dai, va, va, cambio, apro, back, 2, back, continui, vai, 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 back, 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 io adoro questa canzone, è bellissimo, vai, 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 continui, continui, andiamo in karate, dai, 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 ci mancano 8 minuti di lavoro ragazzi, ormai vediamo la meta, andiamo in karate, ok, verso il lato sinistro, gambe destra in avanti, scendo, su, giù, su, giù, su, giù, su, ancora, giù, up, giù, torsione, ok, torsione, su e su, giù, up, giù, up, giù, up, giù, up, giù, up, ancora, vai, giù, e veloce, facciamo, e piccoli torsioni verso basso, tira, 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 come on, verso basso, spingi con quelle gambe, karate, pericore muscles, ok, giù, giù, 3, 2, stop, ok, 10 secondi, andiamo dall'altra parte ragazzi, mi raccomando, piccola torsione prima lento, 25 secondi, e 25 secondi veloci, ok, siamo pronti, giù, su, giù, su, giù, su, abdominali tesi qua, ok, giù, up, giù, up, giù, up, giù, ok, cessione di spalle, come se stessi, diciamo, dando un chiodo, un battito sulla testa con il martello, giù, e giù, ancora, giù, ancora, ora, veloce, andiamo, giù, 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 ok, spingi con le gambe, ok, devo andare piano, mio addome ha detto, basta, ok, meno torsione, però posso saltare, così spingo, e posso allenare voi, così vi inspiro, dai ragazzi, tira, tira, 3, 2, stop, eccellente, che andiamo, step touch, legate le gambe, legate le gambe, velocissimo, fate un fiocco, 3, 2, are you ready? Ok, step touch, step touch, step touch, spingi verso basso, dai un bel molleggio, molleggio giù, molleggio giù, vai, 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 per l'allenamento, dai da 30 minuti, sono quasi finiti, vai, 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 spingo, spingo, come on guys, 4, 3, 2, marcia, go, marcia, marcia, tengo sempre l'elastico in tensione, sempre in tensione, vai, 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 dai, ci siamo anche quasi fino a San Valentino, ecco perché ho messo tutti i miei cuorecini, vai, 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 and relax, ottimo ragazzi, prendiamo il nostro elastico, passa dietro la testa, ok, e ci portiamo in avanti, 50 secondi, stenzione, però ricordate che l'elastico sta sempre in tensione, vado, 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 torno, vado, torno, vado, spingo, spingo, vai, vai, allungo, allungo, 50 secondi, il nostro allenamento è quasi fatto, vai, vai, stendo, 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 vai, tiro, 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 non avete idea che sollievo che ho, che con questo, il problema di questo strappetto che il super jump non mi dà fastidio, è fantastico, molte persone che anche hanno il problema di hernia al disco, di ginocchia, su super jump comunque riescono ad allenarsi, che è un grandissimo sollievo perché per noi sportivi quando qualcuno dice, no, ci devi rallentare il vostro allenamento, noi prendiamo il panico, ok, eccoci qua, e ci siamo, tristezione, v-step, la cosa bella è che con il nostro trampolino riusciamo a rimanere sempre in movimento, ok, partiamo in su, back, ancora, su, back, su, back, 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 andiamo su due, due, back, due, back, gomiti sempre leggermente, piegate e le spalle sono rilassate ragazzi, giù, back, andiamo singoli, singoli, vado e controllo le braccia, vai, lo senti? Vai, vai, continui, ah, sì, lo senti durante la fase discendente, quanto diventa più pesante perché c'è la decelerazione e i tuoi muscoli aiutano e assorbono quella decelerazione come allenamento, ok, andiamo, ci siamo quasi, ci mancano tre scatti, ok, leghiamo le nostre gambe, dico un'altra cosa, usiamo anche il nostro peso, ok, 4, 3, 2, cambia, cambia, cambia gamba, 7, 6, 5, 4, 3, cambia, 8, 7, 6, 5, 4, 3, cambia, 8, 7, 6, 5, 4, 3, cambia, 8, 7, 6, 5, 4, 3, cambia, vai, Ok, 4, 4, 4, 3, 2, 1, 4, 4 Attenzione della presa che ce l'ha sempre molto bene in mano il vostro Thunderbell C'è il silicone proprio su grip che aiuta di avere una presa maggiore Se volete potete anche utilizzare i guanti Allora ci mancano due, ci siamo quasi alla fine Prendete centrale e andiamo sul nostro jumping jack centrale Ricordate spalle basse, elastico sempre in tensione Vai Chiudo giù, chiudo, 2, 3, allargo 4, 4, 3, 2 E chiudo piccolo, 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 apro 4, chiudi 4 Apri 2, 2, giù, 2, giù Oh yeah, lo senti sui glutei, mi piace sentire sui glutei Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ok, proviamo a fare lo scatto finale con i singoli, però attenti i gomiti Vai Vai Piccoli Non alzate le spalle Ok, controllo i gomiti Abbiamo quasi finito ragazzi 3, 2, 1 E stop Liberate le gambe L'avete fatto un allenamento pazzesco Abbiamo quasi finito Adesso andiamo a fare l'ultimo minuto di torsione Fatelo meglio di me perché oggi con il mio strappo devo stare sento Vado, 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 vado Ancora Tiro destra e sinistra, gli abdominali rimangono tesi E sono gli abdominali che ti blocca il movimento laterale Frena 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 Ok Vai E lanci Accelera, decelera la vostra stand your bell Ok Vai Vai Vai, abbiamo quasi finito Sono ultime 25 secondi Vai, vai, vai Continuate Continuate Spingo con le gambe Non dimenticare di saltare Così dreni E bruci più calorie Continuate 3 2 1 And stop Ok Eccellente ragazzi Così Oggi vi ho dedicato a una bella allenamento functional a casa vostra Vi mando un bacio Mi raccomando Condividete se vi è piaciuto questo allenamento Farti una personale playlist dedicata alle tue allenamenti preferite delle Jill E mi raccomando condividete il mio canale così possiamo share the love ok Condividiamo l'amore per l'allenamento perché il movimento è vita Un bacio da me il passato è una giornata strepitosa Sì